Carissimi amici appassionati di calcio d'oltremanica, vi do il benvenuto a una nuova puntata di UK Calcio Football League Show, l'unico programma in diretta streaming che vi aggiorna su tutto il mondo della Football League. Ormai siamo arrivati al quinto episodio, conoscete benissimo questa trasmissione. Per la prima volta in assoluto verrà trasmesso questo episodio in contemporanea su due piattaforme, quindi cominciamo subito con le prime novità di UK Calcio, come sempre ogni settimana ce n'è una nuova. Io vi avevo anticipato che stiamo crescendo sempre di più e quindi anche questo è un modo per crescere, cioè avere più visibilità possibile, quindi questo episodio sarà in diretta streaming su Twitch come sempre, ma per la prima volta anche su Facebook, sul profilo Facebook del blog, un profilo attivo da tanti anni, da tanto tempo, quindi non la pagina ma il profilo Facebook. Vi lascerò i link in descrizione per chi sta guardando questo episodio su YouTube On Demand, come sempre disponibile dopo circa due giorni, quindi già sabato potrete vedere la replica. E quindi per la prima volta siamo in diretta contemporanea su due piattaforme. Prima di iniziare la puntata, vi avviso che qualora abbiate domande potete farle senza problemi, io risponderò alle vostre domande però al termine in modo tale da poter avere sott'occhio sia le domande che dovessero pervenire su Facebook, sia quelle che dovessero pervenire invece su Twitch. Pertanto io direi subito di iniziare, abbiamo un po' di cose da dire, intanto saluto subito Giuseppe, assolutamente, assolutamente, anche se abbiamo detto che ne parlavamo alla fine delle domande della chat, però piccola parentesi, Giuseppe che mi segue sempre su Twitch e lo saluto affettuosamente, e non solo, anche su Instagram, cura una rubrica doc su TikTok dedicata alle scommesse. Quindi il sabato mattina, in genere comunque entro le 13 massimo, pubblicherò sempre questi video in cui indicherò i pronostici che Giuseppe elabora sapientemente il giorno prima, quindi lo saluto e adesso, come dicevo, prima di iniziare, come ormai siete abituati, io direi subito di partire con la sigla. Ciao! Ciao! Benissimo, eccoci tornati in diretta, per iniziare quindi, per avviarci verso questa nuova puntata di UK Calcio Football League Show, io direi come sempre di partire dalla Championship chiaramente e direi di guardare la classifica. Allora, diciamo che in Championship abbiamo alcune cose, alcune cose da raccontarvi, come potete, diciamo, vedere dalla classifica in sovraimpressione. primo in solitaria è il QPR che sta facendo davvero molto bene in queste ultime partite, tranne la sconfitta abbastanza sorpresa, direi, per quanto riguarda l'ultima giornata, insomma, patita, nella penultima giornata patita contro il Lui D'Ontano, il QPR sta facendo molto bene, sta facendo talmente bene che il suo allenatore, Bale, era pronto sostanzialmente ad andare a Wolverhampton, tant'è che già ieri sera sembrava una cosa ormai fatta. Invece, una notizia di pochi minuti fa, proprio l'ho saputo prima della diretta, ho avuto modo di leggere la notizia, che Bale ha rifiutato il trasferimento al Wolverhampton, quindi il Wolverhampton avrà il suo cosiddetto caretaker manager ancora per tutto il 2023, quindi il trasferimento è saltato, non si fa più il trasferimento, e quindi il QPR continuerà con il suo allenatore, probabilmente, io direi, magari c'entrerà proprio la Premier League con lui, e sarebbe una cosa anche bella, perché il QPR, come vedete, sta conducendo una stagione veramente fantastica, a parte la sconfitta con il Liudon, già nel turno infrasettimale che si è disputato ieri, ha battuto in modo netto il Cardiff per 3-0, e quindi per il Wolves dovrà trovare un altro allenatore, direi a questo punto, senza condizionale, perché sarà proprio così. Per quanto riguarda invece le altre squadre, il Blackburn è tornato alla carica, battendo il Sunderland 2-0, quindi si è rifatto un po' sotto, ma la situazione per il secondo posto, sebbene diciamo che le squadre siano abbastanza, siano tutte lì, siano tutte vicine, come potete vedere la classifica è molto corta, e il Burnley cerca di tenere il passo, anche se ieri ha fatto un po' una sorta di passo falso contro il Birmingham, avendo pareggiato per 1-1. Invece una squadra che ci sta un po' deludendo, è lo Sheffield United, che nelle ultime gare ha inanellato una serie di sconfitte un po' deludenti, tra cui io direi anche proprio quella lì di maturata proprio ieri sera, contro il Coventry, che invece si sta riprendendo, ricordiamo che il Coventry comunque ha due gare in meno. Per quanto riguarda poi, visto che ci siamo, ci avevamo dato un'occhiata alla parte bassa della classifica, una delle situazioni di classifica più pericolose è quella del West Bromwich Albion, che prende la settima sconfitta, la quarta sconfitta in sette gare, e diciamo che la sconfitta maturata in casa col Bristol City è stata una sconfitta abbastanza pesante, perché questo? Perché ha comportato una situazione di classifica un po' pesante per il West Bromwich Albion, e tant'è che si sta pensando di cambiare allenatore, o comunque anzi di cambiare allenatore, in realtà il WBA non ha un allenatore, quindi lo deve trovare, sembra Steven Schumacher del Plymouth favorito, prima di cui parleremo poi dopo. Per quanto riguarda le altre gare, io vorrei segnalare, la vostra attenzione, la bella vittoria dello Swansea sul Reading, che da 1-0-2 riesce a vincere per 3-2, quindi in rimonta, questo è tutto quello che vi sto dicendo, è accaduto nel turno infrasettimale, che si è disputato martedì e mercoledì. Invece lo stesso Reading che soffre una terza sconfitta di fila, una situazione di classifica che si sta mettendo un po' male, terza sconfitta consecutiva, stessa situazione per quanto riguarda il Norwich, che è sempre sesto, ma ha perso con Luton, Luton di cui proprio stavo per parlare, perché è una squadra in grandissima forma, Luton sta facendo un ottimo campionato, questa di cui vi ho parlato prima, è la seconda vittoria consecutiva, la scorsa vittoria, ricordiamo, maturata col QPR, che è una vera e propria corazzata, come abbiamo capito, e quindi Luton, diciamo che al momento ci sembra la squadra più in forma, di quelle che sono nella zona playoff. Attenzione, una zona playoff che però, come potete vedere sempre dalla classifica, è abbastanza ampia, perché abbiamo, diciamo, dalla terza in classifica, fino alla quindicesima, senza poter esagerare, ci sono sei punti di differenza, cioè veramente pochissimi, come sempre la Championship si contraddistingue per essere un torneo molto, molto combattuto, molto aperto, sempre ricco di, che si presta molto alle sorprese, diciamo così, stessa situazione, poi anche nelle parti basse della classifica, in zona retrocessione, tutto è aperto, stavamo parlando prima del Coventry, il Coventry, mentre, torniamo un attimo a schermo intero, il Coventry, ne abbiamo parlato nelle altre puntate, ha avuto grandi problemi, il Coventry, soprattutto con lo stadio, molte gare, due gare sono state rinviate, adesso sembra aver trovato un po' di tranquillità, e questa tranquillità la potete appunto verificare voi stessi, guardando la classifica, perché è vero che è sempre penultimo, ma il Coventry ha ancora due gare da recuperare, ha vinto le ultime due, è in piena lotta, quindi virtualmente avrebbe 19 punti, quindi sarebbe fuori dalla zona retrocessione, quindi c'è ancora tempo per fare ancora meglio, quindi io direi che il quadro della Championship è abbastanza chiaro, abbastanza evidente, è un campionato veramente molto interessante, non c'è nulla di scontato, ed è poi questo che ci appassiona, oltre alla qualità del gioco, soprattutto la qualità degli impianti, anche se come sappiamo poi noi siamo molto affascinati dai playoff, forse perché in fondo sono quelli che hanno una maggiore visibilità a livello mediatico e vengono trasmessi anche dalle tv, però noi ovviamente seguiamo tutto il campionato, quindi abbiamo una visione un po' più completa di questo torneo. A proposito di passione, ci spostiamo adesso, visto che comunque abbiamo vari aspetti da coprire, ci spostiamo in League One, quindi io vi faccio come al solito vedere la classifica, quindi vi racconto questo campionato guardando la classifica e non mi nascondo anche i miei appunti, diciamo che in League One la situazione è sempre molto fluida, però si combatte comunque, si combatte tantissimo, ma c'è una squadra al comando che sta giocando veramente bene, lo stavamo accennando prima, e si tarda il Plymouth, che è primo in classifica con 34 punti, 28 reti segnate, il miglior attacco del torneo, poco sotto l'Ipswich con 27 reti, però il Plymouth veramente sta giocando, sta facendo un grande campionato e non sta deludendo le attese, l'ultima gara ha vinto, ha stravinto col Milton Keynes-Dons per 1-4, veramente una bella gara, io ho visto anche gli highlights, veramente una squadra molto quadrata e molto tosta, che merita assolutamente il primo posto, diciamo che la squadra che tiene il passo è lo Sheffield, che è riuscito a vincere, sfruttando lo scivolone, diciamo così, dell'Ipswich Town, che c'è un po' deluso questa sconfitta, anche se è un po' in calo questa squadra, ha perso in casa contro il Lincoln City, per quanto riguarda le altre squadre, il Peterborough e il Portsmouth stanno perdendo un po' terreno, due sconfitte per entrambe, il Peterborough è in calo di forma, ma soprattutto il Portsmouth lo vedo un po' in una fase calante, invece un'altra squadra, passando diciamo nel lato, cioè diciamo nel lato della zona di retrocessione, un'altra squadra in grande crisi, è il Cambridge che è un'altra squadra che sta vivendo una serie abbastanza lunga di crisi di risultati, il Cambridge è diciottesimo, ha perso la quarta gara consecutiva in casa contro lo Sheffield Wednesday, e per quanto riguarda il club, proprio mi volevo soffermare un attimo sul Cambridge United, perché c'è una notizia veramente interessante, che volevo condividere con voi, e si parla molto, si è parlato molto in queste ultime settimane, di una creazione di uno shadow board, ovvero un organo rappresentativo dei tifosi, quindi il Cambridge, ma non solo il Cambridge, anche altre squadre hanno questa forma, questo consiglio d'amministrazione ombra, per fare diciamo così una traduzione di shadow board, è un organo rappresentativo dei tifosi, quindi in sostanza deve rappresentare la volontà dei tifosi, e la voce dei tifosi, la cui creazione è stata raccomandata dall'Independent Fan-Led Review of Football Governance, questo shadow board avrà la funzione di unificare, dare voce unificata ai tifosi appunto, questo shadow board di cui vi sto parlando, è un'iniziativa molto interessante, interessante, prevista proprio dall'Independent Fan-Led Review of Football, che è un documento abbastanza complesso peraltro, emanato proprio dal governo, molto strutturato e come vi dicevo molto complesso, su cui magari poi fatemi sapere pure nei commenti, se avete voglia di capire cos'è, magari lo posso spiegare in parole semplici, come è tipico di Uke Calcio in un post anche su Instagram, oppure un video apposito perché no da pubblicare, è un documento che è stato creato in seguito al faldimento del Biuri del 2018-2019, che ha colpito molto i tifosi, un po' tutta l'area, tutta l'area diciamo così, e questo documento è stato, diciamo, recepito, viene recepito dalle società, e è importante proprio perché ha da voce ai tifosi proprio per evitare situazioni simili a quella vissuta dal Biuri, perché il faldimento del Biuri non solo ha colpito profondamente i tifosi, il Biuri è una squadra storica del calcio inglese, ma ha avuto anche delle ripercussioni economiche a tutto l'indotto notevoli, quindi per evitare questo, e per far sì che la squadra, che le società siano più vicine alle esigenze dei tifosi, si è, viene raccomandata la creazione di questo shadow board, alcune squadre si stanno adeguando, ma ritorniamo alla classifica di League One, perché un'altra squadra di cui volevo parlarvi, è proprio il Forest Green, avevo promesso di, diciamo così, concentrarmi un attimo di più su questa squadra, una squadra che, se all'inizio del mese, Borchenall aveva messo lui stesso proprio il, l'allenatore che stava vivendo una situazione abbastanza complicata, ve l'avevo raccontato, negli ultimi tempi bisogna dire che la squadra si è un po' ripresa, è riuscita a vincere una gara contro il Bolton, subito dopo ha perso malamente col Peterborough, poi ha pareggiato 2-2 col Porto Velo, un, diciamo, un pareggio che sta un po' di beffa, perché vinceva 2-0 fuori casa il Forest Green sul Porto Velo, e poi si è fatto raggiungere, tant'è che lo stesso allenatore Borchenall ha dato il merito ai tifosi di casa, che hanno sostenuto la squadra in modo incredibile, e portando poi i padroni di casa al pareggio, per lui sono stati due punti persi, piuttosto che uno guadagnato, nonostante fosse una gara di trasferta, quindi questo ha ancora di più a far capire che il Forest Green sembra che si sia un po' ripreso dalla crisi iniziale, e questa è una cosa positiva per la squadra e anche per i fan. Mentre torniamo a Schermintero ci avviamo in sostanza la fine del nostro appuntamento sulla Football League, quindi andiamo, passiamo alla parte finale, ovviamente la parte finale è dedicata alla League Two, e io passo subito la parola alle immagini e alla classifica, soprattutto che è una classifica che vede lo Stevenage primo in classifica, chiaramente, una squadra diciamo che va bene, anche se il pareggio contro il Gillingham non ha convinto molto, tant'è che nel Gillingham era ritornato l'ex manager Steve Evans, che non ha avuto una grandissima accoglienza peraltro, io ho avuto modo di vedere gli highlights, è stata una gara anche ricca di errori, devo dire, da entrambe le squadre, però è stata anche molto interessante. Per quanto riguarda invece il grande, il big match della giornata, quello tra Leighton Orient e Northampton, un match che si è concluso sullo 0-0, questa era una gara che poteva dare un certo, un po' una scossa alla parte alta della classifica, però come vedete hanno pareggiato tutte le prime tre, quindi in sostanza la situazione è rimasta invariata, ha tutto vantaggio dello spettacolo, anche se lo Stevenage al momento, anche se ha una partita in più, ha sei punti di vantaggio sulla quarta in classifica, però è ancora presto, poi tra l'altro il Mansfield nello specifico, ma anche molte altre squadre devono recuperare una gara, quindi la classifica non è molto veritiera. Invece per quanto riguarda una squadra che si sta riprendendo nonostante una sconfitta patita in casa con lo Stockport, è il Bradford che ha vinto a Salford, che poi tra l'altro è l'unica, perché anche qui c'era una sorta di spareggio, di sconto diretto, è l'unica delle squadre in lotta per il playoff, per i playoff ad aver perso, e ha perso proprio contro il Bradford, contro una diretta concorrente, è stata una gara veramente molto bella, molto combattuta, tra l'altro io sono stato colpito anche dallo stadio del Salford City, è uno stadio su cui magari mi andrebbe, non so se può interessare, ma a me interessa, quindi sicuramente lo farò, perché poi è bello andare a vedere queste realtà, approfondire un po' lo stadio del Salford City, perché mi è sembrato proprio uno stadio vecchio stile, ecco, quindi lo stadio vecchio stile tipico del calcio inglese, che tanto ci piace. Per quanto riguarda la situazione invece di metà classifica, io vedo e segnalo un Barrow in crisi nera, quarta sconfitta consecutiva, tra l'altro un'ultima sconfitta, quella nell'ultima gara del Barrow, che è venuta, e qui ci spostiamo nella parte bassa della classifica, contro il Rochdel, un Rochdel che si è ripreso in modo abbastanza, come dire, a sorpresa, perché noi ne abbiamo parlato, che il Rochdel aveva un po' delle difficoltà evidenti, però insomma in queste ultime gare si è ripreso, e a proposito del Rochdel, torno a schermintero perché vi volevo dire che il Rochdel è vero che si è ripreso, però la situazione societaria del Rochdel è abbastanza complicata, perché è stato proprio pochi giorni fa penalizzato di sei punti, ma la pena è stata sospesa per due anni, che cosa è accaduto in breve, cerco di riassumere in breve, a luglio 2021, la Morton House ha cercato di acquistare il club, quindi ha acquistato delle azioni, però il, come sapete, in Inghilterra la IFL è molto attenta alle acquisizioni, alle società che vanno ad acquisire i club, al sistema di acquisizione, ci sono tutta una serie di regole che magari potremo poi approfondire in una serie specifica, sempre attraverso magari un post, questo potrebbe essere interessante, o un video che vi spiega un po' come funziona, e dicevo, quindi, ci sono determinate regole che vanno rispettate, se non vengono rispettate, poi le squadre si espongono a delle penalizzazioni, cosa che è accaduto appunto a Rochdale, sono stati tra l'altro squalificati alcuni personaggi, sia della società, sia al di fuori della società, e la squadra è stata penalizzata di sei punti, ma la pena è stata sospesa per due anni, quindi per questo motivo non vedete alcuna penalizzazione in classifica, quindi questa società, questa Morton House, che voleva acquisire il Rochdale, e il Rochdale l'avrebbe fatto senza l'autorizzazione della IFL, e quindi, diciamo, per questo motivo c'è stata questa penalità, insomma, vedremo come andrà a finire, anche se per ora la società sembra tranquilla, ma torniamo nella classifica, con la visualizzazione della classifica, perché c'è un'altra squadra, di cui voglio parlarvi brevemente, nella conclusione della trasmissione, il Doncaster, che si trova a metà classifica, a un 21 punti, insomma, una situazione che in realtà, ha perso 3-0, contro il Carlisle, nell'ultima gara, però una situazione di classifica, diciamo, che non è brutta, non si tratta di, non sta in zona retrocessione, o comunque, non naviga in situazioni difficili, è comunque in lotta, ampia lotta, per i playoff, e perché no, visto che la stagione è così, è molto lunga, anche per la promozione diretta, bene, che cosa è successo al Doncaster, il Doncaster, e qui voglio tornare a schermo interno, ha esonerato l'allenatore, Gary McSheffrey, è stato esonerato, mi ha incuriosito molto questa cosa, perché è stato esonerato, per un motivo un po' particolare, cioè per il fatto che i risultati, infatti questo è proprio stato, un comunicato della società, quindi, potete andarlo a leggere pure sul sito, i risultati sono stati buoni, quindi la società dice, io ti esonero, i risultati sono buoni, però, attenzione, c'è preoccupazione, per le performance complessive, della squadra, ma soprattutto, tra le varie gare, non si vede un miglioramento, quindi in sostanza, la società ha deciso di esonerare, Gary McSheffrey, perché non vede in prospettiva, una prospettiva di crescita della squadra, quindi a livello tecnico, di risultati, e quindi ha deciso di esonerarlo, veramente una cosa un po' particolare, per come, diciamo, siamo forse abituati noi, a vivere gli esoneri, ecco, diciamo così, e in ogni caso, è stato particolare leggere, le motivazioni di questo esonero, una cosa che non capita molto spesso, devo dire, vedremo chi subentrerà, almeno ad oggi, non vi so dire, se già il Don Caster ha scelto il successore, sinceramente, non so, non ho notizie oggi, o meglio, non mi sono informato oggi, se ci sono novità, però comunque, come sempre, vi terrò aggiornati, su tutti i canali social, prima di salutarvi, io direi di dare un'occhiata, se ci sono domande, sulle varie piattaforme, non mi sembra, io saluto ancora Giuseppe, che è ancora con noi, vediamo, si Giuseppe sta già studiando i match, per la scommessa di sabato, Giuseppe, questo è tutto tuo, quindi non c'è problema, sia a livello di giocatori, quindi di marcatori, che di scommesse, fai tu, ci affidiamo a te, speriamo di festeggiare, una bella vittoria, così almeno siamo sicuramente tutti felici, soprattutto anche chi ci segue, e chi fa, diciamo, si unisce la tua, al tuo pronostico, sarà ancora più felice, diciamo, benissimo, io direi a questo punto, che siamo in chiusura, siamo verso la fine della nostra, del quinto episodio di Uke Calcio Football League Show, io come sempre, vi ringrazio, vi ringrazio tanto, ci saranno tantissime novità, nel corso delle prossime settimane, come vedete, io ogni, noi ogni giovedì, cioè io ogni giovedì, vado in onda, o qui, oppure con questo format, oppure con Uke Calcio Social Pub, avremo due ospiti già programmati, non vi dico ancora nulla, quindi seguitemi, però saranno due ospiti veramente molto interessanti, e ce ne saranno poi, ovviamente altri, io come sempre, vi invito a iscrivervi sui social, a seguirmi sui social, tanto sia su TikTok, dove si pubblicano video interessanti, anche un po' ironici, a volte su Instagram, dove ci sono i post, ormai apprezzatissimi, e per questo vi ringrazio, e anche su YouTube, dove, in esclusiva, c'è Premier League Show, una diretta streaming, in cui io, seguo insieme a voi, una gara di Premier League, in genere quella delle 17.30, vi posso annunciare, che molto probabilmente, ci sarò domenica, però ovviamente, la conferma ufficiale, ve la darò tramite i canali social, quindi, vi aggiornerò, sulla prossima puntata, di Premier League Show, io, vi ringrazio tantissimo, di avermi seguito, e vi do appuntamento, prossimamente, su Che Calcio, e seguitemi sempre, buona visione, per chi sta guardando, la replica di questa puntata, on the month YouTube, a presto.